Sì, loro hanno giocato bene, hanno sbloccato la partita su un calcio piazzato. Purtroppo ci abbiamo provato negli ultimi minuti a cercare di allargare un po' il gioco e provare a fare il pareggio, ma loro sono stati molto bravi e hanno meritato la vittoria. Pescara che è riuscito a limitarvi in avanti per 80 minuti, a parte quel finale non siete mai riusciti a tirare in porta, eccezione fatta per la punizione di Viola per il pareggio. Come mai queste difficoltà oggi in avanti per la vostra squadra? Conto di noi si chiudono tutti, quindi è molto difficile trovare spazi. È normale che quando trovi pochi spazi devi cercare di alternare le giocate, però alla fine se anche loro non sbloccavano sul calcio piazzato il primo tempo finiva 0-0. Poi gli episodi fanno la differenza, però ripeto, noi dobbiamo rimboccarci le maniche e stare tranquilli perché sia nelle vittorie che nelle sconfitte non possiamo cambiare umore, dobbiamo avere equilibrio e poi alla lunga tireremo le somme. Però se già facciamo proclami adesso sia nel bene che nel male, penso che ci facciamo del male da sole. Ti credo una considerazione tattica perché dopo il gol del 2-1 di Machine sono cambiate completamente le impostazioni da una parte e dall'altra, voi avete inserito tutta la vostra qualità offensiva, una sorta di 4-2-4, il Pescara alla fine si è messo con Brugman dietro una punta, una sorta di 5-4-1. Lì cosa vi è mancato per andare verso l'area di rigore perché il Pescara si è blindato molto bene? Ma per andare in area di rigore non ci è mancato niente perché sul fondo arrivavamo sempre, ci è mancato il gol penso perché poi alla fine... Però Fiorillo non rischiava. Sì, sì, no, no, però io capisco che tu sei del Pescara e devi tirare l'acqua, lo capisco, però sai, magari un episodio, un calcio d'angolo anche per noi come è successo per il Pescara poteva magari portare la partita in pareggio. Però ti ripeto, noi dobbiamo fare di più, il Pescara ha fatto la sua partita, ha giocato bene e noi siamo consapevoli che dobbiamo fare di più perché non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi adesso. Siete preoccupati dopo queste sconfitte con il Foggia e con il Pescara? Beh, dopo due sconfitte. Dai, per favore, devo rispondere... Noi facciamo le domande. Sì, ma preoccupate, te l'ho risposto già prima, io non mi posso preoccupare dopo sei partite. È normale che siamo una squadra nuova, le vittorie non nascondevano i problemi, le sconfitte non ci abbattono, dobbiamo essere solo maturi, intelligenti a rimboccare le maniche e capire che dobbiamo fare di più, punto e basta. Però se io mi preoccupo dopo sei partite, che sono matto, cioè faccio il gioco degli altri, io non posso preoccuparmi, devo solo essere umile e capire dove posso migliorare e ripeto, rimboccarmi le maniche e affrontare tutto con determinazione. Ma la preoccupazione in questo momento non esiste proprio. Perfetto.